Musica Picchiatori di professione, sgomento a colleferro dopo il pestaggio del giovane Willy, ucciso per aver difeso un amico oggi, lutto cittadino, in carcere. I quattro arrestati per omicidio, il paese li accusa, si sapeva che erano violenti, corresponsabili nell'educazione, il monito del vescovo. Ritorno in classe, primo giorno di scuola in Trentino e Veneto, regole rigide, volti spaesati dietro le mascherine, ma alla fine vince la voglia di ripartire, malumori fra i genitori dei più piccoli che avrebbero voluto entrare in classe, caos docenti, molti posti ancora da coprire. 1108 nuovi positivi, 12 vittime, prosegue la corsa del virus, ma nelle ultime 24 ore è in calo, i contagi diminuiscono però anche i tamponi eseguiti, all'estero oltre 27 milioni di positivi, l'allarme dell'OMS non sarà l'ultima pandemia, ma alla prossima saremo tutti più pronti. Arriva l'autovelox di quartiere, dalla settimana prossima per le strade sotto casa, limiti a 30 all'ora e obbligo di dare precedenza alle biciclette, anche contromano oppure gli ausiliari del traffico potranno fare le molte. La vitamina dello sport per ripartire, arriva in libreria il nuovo libro del Papa, con le parole rivolte da Francesco agli atleti di tutte le discipline, si chiama Mettersi in gioco, lo sport, scrive Francesco, come strumento educativo per una società inclusiva. Buonasera a tutti voi dal TG2000, in apertura il pestaggio di Colleferro, siamo in provincia di Roma, in cui ha perso la vita il 21enne Willy Monteiro Duarte, in carcere a Re Bibbia, i quattro ragazzi dai 22 ai 25 anni, lascia a sgomenti la brutalità di un atto che ha sconvolto l'intera comunità cittadina laziale, dove andiamo subito in diretta con Massimiliano Niccoli. Massimiliano, a te. Buonasera da Colleferro, siamo nel luogo dove il povero Willy è stato massacrato di botte da una banda di cinque persone, quattro sono state arrestate, la quinta a piede libero e tuttora indagata. Oggi è stato un pellegrinaggio, un vero e proprio pellegrinaggio di amici, parenti, semplici cittadini che hanno voluto portare qui un fiore bianco. Bianco perché Willy, ci hanno detto, era il ragazzo più buono del mondo. Willy che faceva l'aiuto cuoco in un ristorante qui vicino ed era cresciuto in parrocchia. E della bontà di Willy ci dà testimonianza un ragazzo che di Willy è stato compagno di classe nelle tre medie, lui si chiama Alfredo. Chi era Willy? Willy era semplicemente un ragazzo buono, un angelo veramente. Era una persona che non dava fastidio a nessuno e aiutava il prossimo. Alfredo è stato lui, non so se la vedete, vedete quella croce lì con sotto la scritta ciao angelo mio, è stato lui a portarla. Perché hai sentito questa esigenza? Io e Willy abbiamo fatto tre anni di media insieme, quindi mi ha sempre aiutato e ci siamo divisi con le strade. Purtroppo ci siamo davvero divisi, però nel mio cuore lo porterò sempre e questo il gesto è per lui. Willy aveva un sogno. Vedete che ci sono tante sciarpe della Roma, cappelli, maglie, perché lui aveva un sogno appunto, quello di vedere la sua squadra dal vivo all'Olimpico. Un sogno spezzato nella notte fra sabato e domenica, come ci ricorda la nostra Letizia Davoli. Una aggressione violente e brutale contro chi aveva come unica colpa quella di avere difeso un amico da un gruppo di bulli. Un bel gesto di un ragazzo pulito preso dal branco come un'offesa da riparare con un massacro a calci e pugni fino alla morte. A perdere la vita sabato notte a Colleferro in provincia di Roma, un giovane originario di Capoverde, Willy Monteiro Duarte, studente all'alberghiero di Fiuggi e aiuto cuoco in un hotel di Artena. I suoi aggressori invece si sono dati alla fuga per essere catturati poco dopo vicino alla cittadina. Ora si trovano in isolamento nel carcere di Re Bibbia in attesa dell'udienza di convalida prevista per mercoledì. Su tutti pende l'accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Si tratta di Francesco Belleggia, 23 anni, Mario Pincarelli, 22 anni, e dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, di 25-24 anni, a cui si è aggiunto nel pomeriggio di oggi un quinto indagato. La loro opposizione potrebbe aggravarsi. Se dall'autopsia fissata per il 9 settembre dovessero emergere altri dettagli, il capo di imputazione potrebbe diventare omicidio volontario. Un omicidio violento e brutale di una feroce inaudita e immotivata, stando ai racconti dei testimoni. I quattro avrebbero massacrato di botti il giovanissimo capoverdiano di appena 21 anni solo per essere intervenuto in difesa di un amico che il gruppo aveva preso di mira. Una lite sfociata prima in risse e poi in un massacro a calci e pugni. Due dei quattro aggressori erano occultori della MMA, una disciplina agonistica legata alle arti marziali con precedenti per lesioni e spaccio. Per Willy Mondeiro, raggiunto da colpi violentissimi, non c'è stato nulla da fare. Se confermato dal medico legale, ad essergli fatale sarebbe stato un forte calcio alla testa. La morte è avvenuta durante la corsa verso l'ospedale. Coinvolti nel pestaggio anche due amici di Willy, che hanno subito diverse lesioni. Per loro la prognosi è di dieci giorni. I fatti sono avvenuti, come vedete, alle spalle della stazione dei Carabinieri. Grazie all'intervento del comandante, le quattro persone sono state arrestate in flagranza di reato e poi appunto trasportate a Rebibbia, dove si attende l'udienza di convalida. Sul quinto sono in corso accertamenti per capire le sue reali responsabilità. Sono stati loro a uccidere Willy, lo accerterà la giustizia. Naturalmente però qui, lo dicevamo in apertura, la città è sgomenta per quello che è accaduto. Un'aggressione brutale, incredibile, ingiustificata. Willy è stato ucciso per la sola colpa di voler mettere pace in una rissa scoppiata precedentemente. Allora sentiamo i cittadini di Colleferro e dopo questa carrellata di voci la linea può tornare a Roma. C'è questo secchio, bozzato palesemente distrutto, che ieri si trovava nel luogo del delitto, dove molto probabilmente è stato sbattuto con forza addosso al ragazzo, perché giorni passati questo secchio era ovviamente sano. Un fatto molto sconcertante perché comunque Colleferro è una cittadina per gente per bene, una cittadina violenta ovviamente. È un fatto veramente che lascia bocca aperta perché comunque sapere dove abito così violenta e un imbarbarimento è veramente brutto. Avevano già qualche precedente, insomma, noi non li conoscevamo bene, proprio di vista così. Però qualche precedente già ce l'avevano. Purtroppo abbiamo avuto l'ennesima conferma che la società di oggi fa davvero schifo. Purtroppo difendono tutti i giovani di oggi, ma a quanto pare i giovani di oggi fanno più schifo di quelli di ieri. Io li conosco perché ci siamo allenati tanto tempo fa insieme, ma non posso dirle di conoscerli molto bene che ci uscivano insieme, comunque erano persone che non facevano tanta amicizia. Avevano i loro modi di comportarsi. Si possono definire violente? Sì, a volte sì. A volte sì. Morire così a 21 anni senza motivo per mettere pace è avuto la peggio. Io penso noi qui a Colleferro siamo tutti sconvolti come tutti del resto perché è una morte brutta, a 21 anni, non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Sulla vicenda abbiamo raccolto anche le parole di Monsignor Vincenzo Apicella, vescovo della diocesi di Velletrisegna, al cui territorio appartiene Colleferro. Allora dice siamo tutti corresponsabili. Monsignor Apicella, ascoltiamolo. La morte di Willy Monteiro non può passare con uno dei tanti fatti di cronaca che si dimentichano dopo una settimana. È un segno grande che dobbiamo saper raccogliere e saper interpretare. Il primo insegnamento che possiamo trarre dal fatto è che la situazione che stiamo vivendo non può lasciarci tranquilli. Siamo seduti su una polveriera che può scodere in qualunque momento e per qualunque persona. Il clima di violenza, di intolleranza, di disprezzo della vita che si è andato instaurando per tanti motivi nella nostra società è un potenziale negativo che deve interrogarci tutti e che chiede da noi una reazione, una presa di posizione. Abbiamo argomento. Dopo mesi di assenza torna il suono della campanella. Primo giorno di scuola a Bolzano, ma anche a Voeuganio, nel Padovano, luogo simbolo del contagio. Da questo primo test di ritorno sui banchi emergono così luci e ombre. Pierluigi Vito. La riapertura della materna di Voeuganio, il paese in cui si registrò il primo morto per Covid italiano, può davvero costituire un segno di speranza. Qui e in altre località della penisola, scuole di diverso ordine e grado hanno cominciato a riaprire i battenti, come nella provincia di Bolzano, dove tutte le parti coinvolte hanno dimostrato attenzione rispettando le procedure. Sono andate bene sia sui trasporti, dove non ci sono stati assemblamenti, sono andate molto bene all'interno degli istituti scolastici, dove i ragazzi sapevano, conoscevano bene le regole, hanno seguito i percorsi tracciati proprio per non incontrarsi. I timori sono i diversi scenari che si potranno prospettare in corso d'opera e le gioie è rivedere finalmente i nostri alunni, il sorriso dei nostri alunni in classe assieme a noi. A Milano hanno riaperto asili nido e scuole dell'infanzia nell'osservanza dei protocolli anti-Covid, un approccio nuovo ma rassicurante, come testimoniano i genitori. Non si possono accompagnare i bambini proprio dentro, quindi li vengono a prendere le maestre, sono tutti con mascherina, quindi sicuramente tante differenze, però molta professionalità e questo ci dà sicurezza come genitori. Ma non tutti i genitori sono sereni, ad esempio a Torino. Qui, come in tante realtà d'Italia, ci sono istituti con carenze croniche in organico, di personale docente e non docente, con ripercussioni quest'anno più problematiche che mai, come ad esempio accade in una scuola primaria. Molte saranno le aule divise, le classi divise, e a questo punto ancora non si ha nessuna certezza di quanti insegnanti arriveranno. Il dirigente scolastico quindi non ha la certezza di poter garantire il tempo pieno a tutti i bambini. Questo è solo l'inizio. Da lunedì prossimo tornerà in classe il grosso delle regioni, ma aumenta il gruppo di quelle che hanno deciso di ritardare la riapertura. Oggi si è giunta la Campania, che riporterà gli studenti a scuola il 24 settembre. E si rianimano anche le università. Oggi al via le lezioni alla Cattolica di Milano, la ripartenza all'insegna della gradualità, come ci spiega Luciano Piscaglia. Si sono riaperte oggi, dopo i lunghi mesi del lockdown, le aule dell'Università Cattolica, dove l'attività didattica riprenderà gradualmente e in forma ibrida. Le lezioni saranno tutte diffuse online, ma gli studenti che scelgono di seguirle in presenza si possono alternare in aula, suddivisi in gruppi. C'è una app che l'Ateneo ha messo a disposizione proprio per la prenotazione della presenza e contemporaneamente per gli studenti che invece rimangono a casa la possibilità di frequentare in streaming, in diretta. A partire oggi, nella sede di Milano, sono stati i corsi di scienze bancarie, nel rispetto delle norme di sicurezza e compatibilmente con gli spazi disponibili. Beh, come prima lezione non male. Eravamo in pochi, il distanziamento c'era, si è riusciti a seguire. Meno male che abbiamo ripreso perché comunque avere il contatto con i professori è molto meglio che essere a casa online. La cosa che funziona bene è che sinceramente è tutto pronto anche online, anche appena finita le lezioni i professori sono disponibili a caricare tutto il materiale didattico necessario. Intanto ha riaperto anche la biblioteca, sempre su prenotazione, mentre a seguire nelle prossime settimane ripartiranno le altre facoltà in tutte le cinque sedi dell'Ateneo. Pronte, non vediamo l'ora. Il 6 ottobre dovremo iniziare i corsi anche noi, che facciamo le tre filosofia e non aspettiamo altro. Speriamo che non ci sia un secondo lockdown e che quindi, seppur con le limitazioni del caso, l'applicazione per entrare in biblioteca, che comunque è un numero contingentato e idem per le lezioni, comunque non ci si freni di nuovo totalmente. Siamo ai dati sui contagi di oggi in Italia. Oltre 1100 i nuovi casi aumentano vittime, anche i numeri in terapia intensiva. Silvio Vitelli. Sono 1108 i nuovi positivi comunicati pochi minuti fa dal Ministero della Salute. Sembrano pochi rispetto ai giorni scorsi, invece no, tutt'altro complice il weekend appena concluso che fa calare drasticamente i tamponi effettuati. 52.000, praticamente la metà di quello a cui ci eravamo recentemente abituati. La curva epidemica si sta alzando e così anche il numero di persone ricoverate per Covid in terapia intensiva, salito a quota 142. 12 le vittime. I malati ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile, parola dell'Associazione Anestesisti Reanimatori Ospedalieri Italiani che aggiunge non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi e cioè che il virus sia diventato meno aggressivo. E i ricoverati in terapia intensiva hanno inoltre un'età media più bassa. Ai problemi del corpo si aggiungono poi quelli della mente e gli psichiatri. Riuniti in questi giorni ad un convegno internazionale riferiscono ben 71 suicidi e 46 tentativi di togliersi la vita da marzo ad oggi in Italia legati in maniera diretta o indiretta al coronavirus. Oltre alle conseguenze della crisi finanziaria contano anche l'isolamento sociale ben diverso dal distanziamento fisico necessario per il contenimento del contagio, lo stigma nei confronti di chi ha superato la malattia e dei loro cari o familiari, il peggioramento di un disagio psichico già presente ed esasperato dalle difficoltà emerse con la pandemia. Diramato nel pomeriggio l'ultimo bollettino sulle condizioni di salute dell'ex premier Silvio Berlusconi alla quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale dovuta al Covid. Il quadro clinico complessivo ha fatto sapere, lo vedete il professor Alberto Zangrillo che lo segue, appare in miglioramento ed è coerente con la ripresa di una robusta risposta immunitaria associata alla riduzione degli indici di infiammazione. E anche Marina Berlusconi, la figlia maggiore dell'ex premier, è risultata positiva al Covid. Sta bene ed è in isolamento a casa sua a Milano con la famiglia dove sta continuando a lavorare. Sul fronte delle misure anticontagio, il premier Conte ha firmato il decreto che proroga le norme in vigore dal 10 agosto almeno fino al 30 settembre, confermato l'obbligo mascherina anche all'aperto. principale novità poi il ricongiungimento delle coppie internazionali. Marco Bergamaschi. Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede misure di contenimento del virus valide da oggi al 30 settembre. Molte sono una proroga di quelle già in vigore delle ordinanze estive. Innanzitutto si confermano il distanziamento minimo di un metro, di genere le mani e l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, ma anche all'aperto se la distanza minima non è garantita. Obbligo in vigore anche dalle 18 alle 6 di mattina sempre nei luoghi aperti al pubblico, dove si rischiano assembramenti come nelle vie della Movida, misura che ricepisce l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute dopo Ferragosto. Confermato ancora lo stop di discoteche sale da ballo e le partite di calcio continueranno ad essere giocate a porte chiuse a stadi vuoti. Inoltre si conferma che chi rientra dall'estero o da paesi a rischio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio, ribadito anche l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, come è stato ribadito il divieto di ingresso dagli stati della Black List, che attualmente sono 16, pur con una deroga per consentire il ricongiungimento delle coppie internazionali rimaste separate per i divieti. Queste le regole per il trasporto locale. Si stabilisce che, anche in vista della ripresa delle scuole, la capienza di autobus metropolitani e treni regionali possa arrivare all'80% dei posti se saranno garantiti efficaci i sistemi di areazione e di ricambio dell'aria. Capienza che potrà essere invece piena per gli scuolabus se il viaggio dura meno di un quarto d'ora. Ora il virus nel mondo, oltre 27 milioni gli infetti in tutto il pianeta, impennata di positivi in India, oltre i 4 milioni, Enigma, Africa, dove dietro i numeri bassi si nasconde però la mancanza di risorse e controlli. Allora cerchiamo di capirne di più con Maurizio Dischino. La metropolitana di Nuova Delhi e Mumbai in India ha ripreso a correre questa mattina dopo 5 mesi di stop per l'emergenza coronavirus. Le mascherine sono obbligatorie, così come il rilevamento della temperatura, la sanificazione dei bagagli e il distanziamento interpersonale. Le corse al momento sono ridotte, ma sono sufficienti. Infatti non c'è stata l'ondata dei 2 milioni e 600 mila passeggeri, così com'era l'affluenza quotidiana prima della chiusura. I numeri del coronavirus spaventano. Oltre 90 mila contagi nelle ultime 24 ore, 4 milioni e 200 mila dall'inizio della pandemia. Ora l'India è il secondo paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti, che contano quasi 6 milioni e 300 mila casi su 27 milioni e 150 mila a livello globale. I decessi nel mondo sono arrivati a 890 mila. In Brasile, terzo paese al mondo più colpito, con oltre 4 milioni e 100 mila casi, nonostante l'emergenza sanitaria, nel fine settimana sono tornate a riempirsi le spiagge di Rio de Janeiro e del litorale di San Paolo. Stando al Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, Ufficio dell'Unione Africana, l'Africa conta 1.293.048 casi ufficiali, di cui 31.082 decessi, più 40.000 casi a livello continentale dall'inizio di settembre. La diffusione del coronavirus sembra più lenta, ma è difficile fare bilanci in paesi dove le strutture sanitarie sono inadeguate o non arrivano nelle aree rurali. Ora in Bielorussia, perché è mistero, sulla sorte di un'altra esponente dell'opposizione, si tratta di Maria Koleznikova, alleata della Lidere del Fronte, contrario al presidente Lukashenko. La donna è scomparsa. Antonio Soviero. Uomini mascherati l'hanno prelevate e l'hanno spinta su un minibus con la scritta comunicazione. Questa la dinamica raccontata da una testimone del presunto rapimento di Maria Koleznikova, avvenuto questa mattina nel centro di Minsk, capitale della Bielorussia. La testimonia ha riferito inoltre che il cellulare della donna attivista era caduto a terra durante una rissa e che uno degli uomini mascherati l'ha raccotto prima che il furgone partisse. Maria Koleznikova è una delle tre donne che hanno unito le forze dell'opposizione in vista delle elezioni presidenziali di agosto per sfidare Alexander Lukashenko, l'ultimo dittatore d'Europa, cui una commissione elettorale corrotta ha attribuito la vittoria contro la sfidante Svetlana Tikhanoskaya, fuggita all'estero subito dopo lo spoglio farsa. Oggi ha lasciato il paese anche un altro leader dell'opposizione, Pavel Latusko, che ha riferito di essere stato minacciato dai servizi segreti. Ieri nel quarto fine settimana di grandi proteste di strada quattro manifestanti sono morti negli scontri con la polizia che ha arrestato 633 persone ma nega di aver affermato oggi Maria Koleznikova, membro del Consiglio di coordinamento istituito dall'opposizione per garantire un trasferimento di poteri. È inaccettabile la continua repressione della società civile condanna l'Unione Europea che starebbe preparando sanzioni economiche per 31 alti funzionari bielorussi, incluso il ministro degli interni. Ed è uscito dal coma farmacologico Alexei Navalny. L'oppositore russo si trovava in coma indotto all'ospedale di Berlino dopo quello che, secondo le autorità tedesche, sarebbe stato appunto la vittima di un indubitabile tentativo di avvelenamento. Secondo il comunicato dell'ospedale, nel pomeriggio di oggi Navalny è uscito dal coma e adesso le sue condizioni di salute sono migliorate. Ci riporta in Italia la politica ad animare il dibattito, i prossimi appuntamenti elettorali. Il segretario del PD, Zingaretti, chiede al partito di sostenere il fronte del sì al prossimo referendum costituzionale, ma è forte il dissenso interno. Augusto Cantelmi. Un sì con molti sé arriva il sofferto via libera della direzione del Partito Democratico a votare a favore del referendum del 20 e 21 settembre sul taglio di 345 parlamentari per il segretario Dem Zingaretti. Si tratta di una scelta giusta. Io ho proposto un sì per cambiare, finalmente per fare le riforme. tutta la vita ho lottato contro l'antipolitica e lotterò tutta la vita contro l'antipolitica, ma per farlo è giusto cambiare e mettere in campo un processo di riforma. Ma per il segretario Dem, il sì al taglio dei parlamentari andrebbe integrato dalla riforma costituzionale con la cancellazione del bicameralismo. Perfetto, nella direzione tuttavia non sono mancati le voci di dissenso. Ci sarà un taglio molto modesto dei costi, ma una serie di implicazioni che dovranno essere affrontate successivamente e sarebbe stato utile affrontarle in modo preventivo. Referendum consultivo che cammina di pari passo con il voto delle regionali. Il leader leghista Salvini spera in una vittoria in tutte e sette le regioni dove si vota per dare una spallata al governo. Più prudente invece la Meloni. È una sfida ed è evidente che in tutte le regioni nelle quali abbiamo candidato i nostri rappresentanti con una coalizione poesa con un programma concreto persone capaci lo abbiamo fatto con l'obiettivo di vincere. È un fatto che oggi... In arrivo l'autovelox di quartiere è una pioggia di multe. La novità contenuta nel testo riconvertito del decreto semplificazione e gli occhi elettronici spunteranno così anche sotto casa imponendo i limiti di velocità a 30 all'ora e precedenza alle biciclette. Giuseppe Caporaso. Bisognerà stare sempre più attenti nel guidare la propria auto anche nelle traverse vicino casa. Con la modifica del codice della strada e la conversione in legge del decreto semplificazioni ci sarà la possibilità di installare autovelox fissi anche nelle strade urbane e nei quartieri. Fino ad oggi è ravitato. Potrebbe essere anche forse una mossa giusta magari nei quartieri un po' più tranquilli dove ci sono anche magari le scuole vicino secondo me sì può essere una buona idea. Chiede maggiore informazione per evitare multe? Informazione anche i cartelli perché poi alla fine fine no? Secondo me è molto utile specialmente vicino alle scuole che a volte corrono troppo e non va bene secondo me è un'ottima idea. Probabilmente creerà qualche intoppo in più se non incidente tra virgolette perché chi sta dietro se ne scorda vede davanti che frena gli sta troppo vicino e tamponiamo le assicurazioni godono. L'autorizzazione per il posizionamento fisso degli autovelox nei quartieri delle città sarà del prefetto che dovrà analizzare il numero degli incidenti stradali avvenuti in quell'area urbana e le cause. Ecco il parere del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale e Comandante della Polizia Municipale di Olgiate Olona in provincia di Varese. Non credo che ci sia una novità che sarà introdotta subito anche perché come valeva per le strade provinciali occorre con degli studi da presentare in prefettura gli studi che riguardano l'incidionalità la pericolosità la promiscuità dell'utenza vulnerabile bisogna dimostrare che in quei tratti di strada urbana c'è la necessità di fare i controlli per dare poi la possibilità di introdurle e credo che sarà una cosa molto complicata diciamo così è anche abbastanza lunga. Ora in Vaticano Papa Francesco ha accettato oggi le dimissioni di Monsignor Michel Malloy vescovo eletto della diocesi di Duluth negli Stati Uniti Malloy nominato lo scorso 19 giugno avrebbe dovuto essere ordinato il prossimo primo ottobre ma lo scorso 7 agosto un'altra diocese americana quella di Rapid City ha ricevuto notizia di un'accusa contro padre Malloy relativa a un presunto abuso sessuale di un minore nei primi anni 80 e oggi appunto le dimissioni ed è stato presentato stamattina allo stadio di Caracalla a Roma il libro dal titolo Mettersi in gioco pensieri sullo sport che raccoglie considerazioni e discorsi di Papa Francesco rivolti agli atleti di varie discipline Paolo Fucili mettervi in gioco con gli altri e con Dio non accontentarsi di un pareggio mediocre dare il meglio di se stessi spendendo la vita per ciò che davvero vale mettersi in gioco nello sport e nella vita predica ad ogni occasione buona Francesco un Papa sensibile a valori e passioni dello sport riflessioni raccolte in questo libretto denso di contenuti ma di formato tascabile da portare nella sacca d'allenamento in palestra o al campo sportivo non da leggere da coperti a coperti in un momento ma di avere ogni tanto trovi qualcosa sempre che potrebbe stimolare e incoraggiare parole indirizzate nelle più varie occasioni ai tanti sportivi incontrati non solo i campioni famosi del calcio che fanno notizia ma anzi di tutti gli sport perché sono andati da lui in occasione ovviamente di grandi manifestazioni di grandi atleti però guardate anche recentemente atleti sconosciuti atleti diciamo che sono impegnati sul sociale presentazione oggi allo stadio Nando Martellini di Roma si parla di sport scuola di vita che infatti dice Francesco ha sempre grandi storie da raccontare su persone che grazie ad esso sono emerse da condizioni di marginalità e povertà come Oxana Corso dall'orfanotrofio in Russia alle medaglie paralimpiche da velocista che a dieci anni camminava a malapena ma lo sport assicura è una terapia anche per l'anima nella vita bisogna avere fede che nulla è impossibile siamo alla mostra del cinema di Venezia di scena una pagina dolorosa della storia dell'Unione Sovietica in concorso il regista russo molto amato Andrei Konchalowski con il film Cari Compagni Fabio Falzone lo ha intervistato allora vediamo come è andata Andrei Konchalowski è un beniamino dei festival e di Venezia in particolare dove nel 2016 aveva vinto Leone d'argento per il film Paradise e anche con questa nuova pellicola potrebbe scoprirsi in pole position per un premio importante Dear comrades Cari Compagni il titolo la dice lunga girato in uno splendido bianco e nero insieme alla moglie e Musa Giulia Vizoskaya ci troviamo in una cittadina dell'Unione Sovietica degli anni 60 i prezzi salgono i salari vengono tagliati improvvisa ma inevitabile la rivolta degli operai che il regime deciderà di mettere a tacere nel sangue la donna funzionaria del partito rischia di perdere sua figlia operaia e inizia una corsa disperata contro il tempo per ritrovarla è come un dramma antico ci spiega Andrei Konchalowski un po' come la storia di Antigone ambientata al tempo del regime comunista è ancora sulla scelta di girare in bianco e nero scelgo questo formato ci ha raccontato perché questa realtà non potrebbe essere mai raccontata a colori coppia al cinema e nella vita Konchalowski e sua moglie Julia ma come si lavora insieme? sono molto fortunata e credo che tutti gli attori che hanno lavorato con il maestro dicano la stessa cosa perché siamo molto amati quando lavoriamo con il maestro e questa è una cosa che ti dà una libertà e assolutamente ti dà forse a volte l'illusione che tu puoi fare tutto